Ciao! Come creare la unione? Come stabilire la unione fra le persone? Gesù fa noi vedere. Dice che ci sono tante cose che dobbiamo fare durante il giorno perché la religione da noi vuole varie cose. Una di queste cose è lavarsi i piedi e non solo per motivi di igiene ma motivi anche della purezza. Ma prendiamo questa opportunità, questa è una piccola cosa della nostra vita quotidiana e prendiamo questa per unire, per creare un legame, per creare una unione, un atto del servitù, un atto che era fatto dagli schiavi. Questo è un atto della... io voglio servire a te, io voglio dare qualcosa a te, ma non per ottenere questa cosa che va fatta, no, per creare un unire. E così Gesù dice a Petro quando chiede a Petro perché quindi lavi me tutti perché Gesù dice se io non ti lavo i piedi non avrei con me unione. E lui dice lava tutto, tutto. E lui dice no, basta perché è puro che ti lavo questi piedi perché basta che entri nella comunità con me. E penso che questo è stato un invito a noi, cercare queste piccole cose durante il giorno quando possiamo dare il nostro amore in questi piccoli atti di servitù. Così capisco io, è tutto.